Amici carissimi bentornati bentornati in un nuovo video sto andando di autofocus in questo momento perché oggi facciamo un video molto leggero facciamo l'unboxing della nuova playstation 5 pro eccola qua già vedo e prevedo molti nei commenti che mi diranno ma perché diavolo tu hai comprato una playstation 5 pro ragazzi l'ho comprata volevo insieme a voi fare un unboxing anche perché volevo un attimo vedere quanto effettivamente è più grande quanto è più piccola provarla e poi decidere se tenerla oppure se restare con la playstation 5 classica quindi non ci perdiamo troppo in chiacchiere apriamo la scatola e vediamo come hanno fatto l'unboxing anche se devo dire la verità c'è roba che si muove all'interno e non penso che sia colpa diciamo del corriere playstation che doveva arrivare ieri e non è arrivata ieri quindi sono veramente in ritardo perché la mia intenzione era quella di farvela vedere ieri 7 che è stata praticamente lanciata il day one era ieri se riesco a tirar fuori la scatola della ps oppa ce l'ho fatta ok allora come si apre si apre da qui benissimo quindi da questo lato abbiamo il nostro bel cavo ok quindi questo è un classico cavo della 2 e 20 si apre la parte della playstation qui abbiamo un cavo usb c qua abbiamo un cavo hdmi penso un 2.1 a questo punto e qui invece abbiamo il dual sense classico ok di sony ne ho già due questo è in realtà il terzo e qui c'è qualcosa ah qui ci sono i due supportini per mettere la playstation stesa in orizzontale io probabilmente la terrò giù sotto al televisore adesso qui mi dice che devo tirare via la console di così o eccola qui la playstation 5 pro la tiriamo fuori ecco nella scatola non c'è più nulla ci siamo tolti l'ingombro della scatola enorme qui penso ci sia un libretto di istruzioni con un libretto per la garanzia manuale della playstation 5 pro e questo qua è una guida penso sia una guida in varie lingue tutta roba che ci interessa poco e niente adesso tiriamo fuori invece quello che ci interessa che la console vera e propria ed effettivamente rispetto a quella che ho io la normale la fat è più piccola bella allora questa qua è la playstation 5 pro come potete vedere il retro non è cambiato quasi nulla ok mentre invece sul davanti qualcosina è cambiato abbiamo le due usb c adesso vado a prendere la vecchia la mia vecchia tra virgolette playstation 5 fatta e le mettiamo una vicino all'altra allora eccoci qua queste sono le due console e vediamo effettivamente la la differenza di dimensioni la playstation 5 fat è un po zozzetta ragazzi l'ho presa così veramente come ce l'avevo sotto al tv e ve la metto qui di fronte a me in questo momento io sono con un grand'angolo ok mentre questa è la pro che effettivamente in altezza non è che cambia molto però come potete vedere è parecchio più sottile in questa zona rispetto alla fatta ed è anche più corta l'hanno fatta più corta un po un bel po più corta di almeno penso 45 centimetri se vuole vedete vicino ok e c'è una bella differenza alla fine fra le due console anche se proprio non tantissima comunque è perché alla fine ho acquistato questa playstation 5 pro va allora sincero e l'ho acquistata per provarla ok sono stato il primo a criticarla il prezzo veramente folle 800 euro infatti mi piange il cuore per aver fatto questa spesa attualmente però diciamoci la verità poi alla fine sono 30 anni che giochiamo alle console quindi a volte c'è anche un bel po di razionalità nell'acquistare l'ultima console cosa sulla quale sony tra l'altro effettivamente ci marcia un pochettino ok la console dirvi che è brutta ovviamente per una persona appassionata cioè è una console quindi è l'ultima console e quindi mi fa un po' quella cosa di volerla provare anche sapendo che poi alla fine dal punto di vista della qualità grafica per adesso non è che ci sia tutta questa differenza parliamoci chiaramente e sicuramente non è un prodotto a mio avviso da 800 euro sono andato a vedere in giro se trovassi se no se se trovassi si può dire correggetemi il disco perché mia intenzione metterci il disco ragazzi per adesso mi sembra di non averlo visto in giro e mi hanno confermato che anche chi l'ha preordinato non lo riceverà se non prima del 20 di novembre una cosa del genere e ragazzi il disco per me è essenziale infatti la vendita della ps5 pro senza disco nella versione tra virgolette digital per me è una presa in giro almeno su quella che è il prezzo cioè il riferimento del prezzo perché la console per me è con il disco cioè sarebbe stato veramente meglio al lancio fare una versione col disco e una digital completamente come era stato con la ps5 normale e non mi venite a dire molti di voi che magari voglio dire difendono la difendono sony da questo punto di vista moccosi di 14 15 anni senza voler offendere nessuno che in realtà non è vero che in realtà oggi nessuno più compra i dischi che avere il disco è anacronistico non è proprio vero il concept secondo me di console è avere il disco anche perché uno può andare a comprare i giochi usati si può scambiare i giochi quante volte anche noi quando eravamo ragazzi ma tutt'oggi ok tra amici di classe tra conoscenti anche mia moglie spesso cambia si scambia i giochi ok con i miei colleghi al lavoro uno gli da un gioco mio fratello che usa la playstation 5 ci siamo scambiati i giochi i dischi quindi voler a tutti i costi far passare il concetto che da questa generazione di ps5 pro il disco è una cosa opzionale mi girano i coglioni il disco per me ci doveva stare perché una console senza disco secondo me comunque limita un po' il movimento ok lo spazio di movimento per chi vuole usare la console adesso io probabilmente non ce l'ho ancora quindi il disco lo ordinerò più avanti voglio prima provarla per così com'è non ve la smonto ok perché 800 euro in questo momento fate riferimento sicuramente ai video dei miei colleghi e sicuramente i prodigy che avranno fatto un tear down ma io in questo momento non lo faccio vi faccio vedere il posteriore con la classica hdmi la lan le due prese usb la l'alimentazione mentre il davanti ok e questo con le due prese usb che tra l'altro c'erano anche sulla versione slim adesso io l'accendo ok e diamo anche uno sguardo alla console diciamo in azione su un monitor oled che è quello che vedete alle mie spalle ovviamente ragazzi non poteva mai essere una cosa semplice fra tutti gli aggiornamenti adesso sto scaricando qualche cosa sinceramente però volevo con voi andare nella sezione video e schermo vabbè questo non ci interessa l'uscita video ovviamente è in questo momento un hdmi però la risoluzione la console me la setta in maniera automatica ma come potete vedere sono libero di scegliere se andare in 4k in questo momento sono su un monitor lg 4k un oled che poi vedremo in un prossimo video posso tranquillamente impostare manualmente ad esempio il 4k posso impostare un miglioramento software qua dice miglioramento la qualità dell'immagine della ps4 vabbè il vrr e l'output è a 120 hertz in questo momento ed è automatico penso sia il massimo anche se io ho un monitor che è 2 e 40 l'hdr è attivo e tutto il resto va bene così in realtà io potrei anche decidere di lasciare la risoluzione in automatico penso che mi abbia automaticamente preso il 4k adesso sto cercando cioè in realtà sto scaricando una demo perché mi devo portare penso i giochi che posso dalla mia playstation 5 alla pro quindi sicuramente avrò modo poi di controllarmi e di farmi un altro po' di giochi però per adesso voglio provare semplicemente un matrix awake ok demo anche se non so se in realtà c'è una differenza hanno fatto una differenza di ottimizzazione tra questo e diciamo quello che era per la playstation 5 quindi fondamentalmente potarsi anche non cambia niente ok è partito finalmente perfetto ragazzi funziona la grafica è abbastanza simile a quella della playstation 5 normale quindi non credo abbiano diciamo ottimizzato la demo di matrix awake per la playstation 5 però in realtà perfetto raga allora per adesso la playstation 5 pro resta qui la farò andare a pieno regime nei prossimi giorni quindi scaricherò anche qualche gioco così da fare un confronto con la vecchia playstation 5 e non mi resta che salutarvi ovviamente invitarvi ad iscrivervi a al canale e lasciare un like se questo video vi è piaciuto ok quindi ci vediamo nei prossimi giorni con dei prossimi contenuti in generale tra cui vedremo anche altre cose sulla ps5 pro ciao ragazzi iscriviti al canale